Buongiorno, aspetta, oh cacchio, buongiorno, ha portato Kinder e Barbie, e cos'è sta? Aspetta, aspetta, led light, il cappello con la luce, guarda Alice, il disegno ti ha fatto, ha fatto un cuore, ti ha fatto il cuoricino, e ha mangiato manzarino, yogurt è finito, vai prova a prenderlo, e allora ti faccio un cuore? Senti i uccellini, ma perché non ha portato più il disegno? Eh, è voluto lasciargli la traccia, non so perché non l'ho guardato io, vai aprire, grazie pepana, io sono stato svegliato dagli uccellini, e anche io, Alice, ancora prima che non c'è, ma ci venivi a svegliare Alice, perché non ci sei andato a svegliare? Forza, 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 papi non ci ha affatto di aiuto così, guarda che tutti, secondo me è pieno di sassi dentro, invece di, oh madonna, cos'è che sono? Pian, 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 te l'avevo detto, ci sono le ali, ti avevo detto, le ali, le ali, che te ne fai con le ali? Voli dove? Voli in Olanda, voli in Olanda, guarda che sbrillucicone, E questo che cos'è? Quello per fare la coda Non sono i calzini? Barbie Cavoli E questo che è Kinder? Sì Quello che mangio io Salute Ehi, questo è il mangio Questi che mangio io No Ci sono i Kinder, quelli gran cereali che mi piacciono a me, che saranno per me Quello che mangio io Questo che è un po' Si sarà incimpata Eccolo, questo che mangio io Basta? Fine Alice, dai Bene Adesso bisogna andare a vedere dai nonni E se ti ha preso un doppio, se ti ha portato un doppione dai nonni Ma non credo, mica Fabio Ma, bella la Barbie Le ali Belle le ali, tutte sbrillucicone Dai, adesso ci calmiamo un attimo E poi andiamo dai nonni Eh no, ci dobbiamo, qua siamo un po' agitati E andiamo poi dai nonni Alice, ti sei montato o ti sono spuntate le ali? Mi sono spuntate le ali Prova, perché hai mangiato tanti Kinder Ma si muovono? Sì Prova Eh, vedi Bene E c'è, ma questo qua per chi è? Ma che cos'è? Che è? Berretto, led light Eh sì Comodo, mi serviva Guarda, ricaricabile anche USB Ma mamma, metti la Adesso progna Qua siamo agitati qua Ma allora questi qua Sono per tutti noi questi qua, no? Sì E per me? Ah E c'erano le ali Sì, ma perché non ci sei venuta a avvisare? Dai, guarda qua, apri la Barbie, vediamo Bella Guardate, può anche fare Scusami Barbie Bene, allora andiamo dai nonni Dopo Ciao Alice Alice, andiamo dai nonni o non serve? Sì Andiamo dai nonni Sì Barbie, devi scendere dalla testa Dai In fondo alla calza c'erano anche le figurine Berretto Dai, apriamole Sì, 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 apriamole Eccole, va C'è già una carta magica sbrillucicosa Sì Da mamma Guardate i danni I danni Questa Qua siamo tutti Questa C'è troppa agitazione qua Poi Non so io Questa 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 è andata troppo bene È andata bene a Natale È andata bene ieri C'è tra un po' Il tuo compleanno Il tuo Poi c'è questa E basta Ah no C'è questa E basta E basta Bene Quindi dovremmo andare dal tabacchino a prendere le cartoline Buongiorno Buongiorno Adesso Andiamo dai nonni Dès Sarti al vento Porti Viano Costali Vogliano volare Ta 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 Già da la nonna È il nonno Nono niente Ma bisogna aspettare Aspetti un attimo Aspetti la nonna c'è anche per un'altra bambina eh sì e quella bambina deve scegliere cosa vuole chi? provo a immaginarti te chi è Alice o tu? però poi c'è un'altra mamma bravissima allora io scelgo questa ok allora io scelgo bubble toffee carbone 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 ma queste la frittatina queste le mangio tutte io no queste sono il cane che belle l'altro che la Kinder la Kinder è sempre buona ma è sempre quello Gesù è squaletto eh l'ho visto prima io allora lo mangio io eh no grazie è il caramella è il panino nooo guarda che c'è un altro quello è mio allora no ma io voglio il coccodrillo il coccodrillo ciuppa ciuppa ma che pira non c'è un po' di latte ma l'ho spacchettato anche te non sei stata buona guarda la prefana ha lasciato questo un po' di latte bene allora con la bocca pieno si mancia un lecca lecca bene dai Alice salutiamo gli amici qua e dobbiamo ancora festeggiare questi iscritti lo sappiamo ma dovremmo prepararci meglio Alice Erma tranquilla va bene adesso io devo farti una domanda e la può valutare te valutare te se va bene allora se tu mangi tutta questa roba qua addio pancia ma la domanda dov'è? addio cibo la domanda è la settimana prossima la luna fai anni va a comprarci un libro e oggi faccio una sorpresa ma non te lo dice bene ragazzi concludiamo qua in questo video ciao e dobbiamo ancora festeggiare gli iscritti non riusciamo a farlo no lo faremo lo faremo dopo mangi la carne dai allora 4100 iscritti tanto manca poco no lo faremo Grazie a tutti